Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Gronchi e insegno chimica industriale ormai da diversi anni qui alla Liuc. Per noi è importante che un ingegnere gestionale della Liuc sappia di chimica perché il territorio è fortemente caratterizzato dall'industria chimica che deriva da una lunga tradizione storica e ci sono molte piccole aziende all'interno del territorio. Parleremo della chimica italiana, parleremo della chimica internazionale, di come si sta evolvendo, quali sono le caratteristiche principali ormai non possiamo trascurare la globalizzazione di ogni settore sotto questo aspetto. Nell'esaminare tutta la filiera noi cercheremo di dare i concetti di base della chimica industriale, quale la conosciamo, quindi parleremo di reattori, parleremo di termodinamica, parleremo di cinetica, ma parleremo anche e soprattutto di energia, da dove prendiamo l'energia per attuare questi processi. L'industria chimica è un'industria molto energivora, quindi parleremo di ambiente, parleremo di materie prime green, parleremo di biomasse, quindi parleremo anche di salvaguardia dell'ambiente, quindi di impianti per la salvaguardia dell'ambiente. Grazie.